buonasera il generale mi ha detto che devi venire che dobbiamo farlo allora ho portato un ospite speciale un diritto giusto? giusto giusto partiamo subito con i pronostici diritto come va? 2 a 0 Bonucci e l'altro non lo so ah dice anche i marcatori si si, Bonucci se ne segura per il generale? 2 a 0 pure io per il Milan il generale 2 a 0? ahahahah per il generale 1 a 1 e come sei generato? povero non ti scappi niente bene niente ma non i vanno a vivi che vanno i vanno a vivi si ne hanno dato 5 collo forse è un modo supero a cui? a 9 5 collo? 4 o 5 non hai ma non è? ma non è? ma non è meglio eh ma non è meglio a tutti ma non è meglio a tutti che vanno a 9 ahahah a dare un'ollata 3 o 4 o 5 se abbiamo visto la tasera a noi ne hanno annullata 5 cento ma se ne è peccato sempre qui cazzo vuoi vanno? ma vaffa me ah se sei fumato ma se non mi non è sulta ma non devi perdere ma come non è sulta? ma stai scazzata ma come fai sulta? ma come fai sulta? e cos' l'ha perso una volta? guarda cos' l'ha perso guarda cos' l'ha perso guarda cos' l'ha perso guarda cos' l'ha perso ma che ferito mamma mia capito ma non ti preoccupare mamma mia ma stasi tremando ragazzo diritto a me stai tremando stai tremando diritto no sono tranquillo questo è bravo mamma che parata che ha fatto io non è buono io non è buono io non è buono non sono veri campioni sono campioncini passeggeri questi sono sempre le guerre spalle ma non fai comunque come mi faiîne ma mh mh mhm gianagini tira subito iiii iiii ce l'ho notario io ho una bella azione te la passione su dolliche questo che vuoi dici? perchè c'era Ronaldo ah facciate un peccato nooo ma avete cacciato un cadavere che mi facevi sentito un cadavere? avete detto tu che no? un cadavere un po' e non poco? no ma non andate a cacciare c'è quello che c'è c'è quello che c'è mi è diventato un cadavere Ronaldo 40 anni non andate a cacciare 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 ah dopo i 35 sei già piccolato tranquillo dopo i 35 si passa un po' io ho un buon anno che puoi giocare a Ronaldo per me è fatto proprio lo segnale ho cambiato le nezze ho pure un cappato allo stesso momento ma guarda ma non andate a cacciare tre da zero o meno non c'è quello che vuole ma guarda quando ciò che lo scopi si da tu cazzo sei ma non andate a voi ma non andate a voi ma non andate a voi proprio perché andate a sei non sapeva che ci si mette in gamba noi andate a voi Ma io quello qui, a fine picchiote Se non so' buoni qui Non so' buoni qui Ma io qualcuno lo sai Guarda perché ne ne mancano parecchio Non più C'è un'acquano magari E che porto a po'? Che bella così il problema Andi proprio a metter qua Un minuto a cuore Eccolo il go Oeeeeee Oh ma la peccata Eccolo il go 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 Come è? Qui è sli Eccolo il go 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 No Eccolo il go Ma tu pensavi mettere un breve in tempo, vedi che tu fai un gradasso con una squadra solo che fermi? O che vengiamo noi? Non preoccupare! Cosa? Sono l'occhio e confendo come vincere loro! Come vinci? Dobbiamo arrivare solo a dieci, poi non... Poi potessi venire solo voi qui Basta che non vengiamo Nebulo, Nebulo no! Non proprio muovere di andare più dieci Attenzione, diritto! Attenzione, diritto! Mamma mia, diritto bello! Mannaggia, diritto, diritto! La vittoria la fanno i gol, non le occasioni Basta! Basta! General, la merita no? La merita no? 50 e 50 5 non è ancora un 50 Tu lo cacchietti si è fatto bene Un portiere fosse lo vuole a fare Inutile sparare tanti proietti senza prendere un passaggio Ha avuto a partire qualche intervento Mi consente di dirle che se c'è qualche ragazza in ascolto Ci contatti a noi di Forza Italia La portiamo in Villa d'Arcoli a fare buca buca! Siamo al primo posto Come sembra Come sembra? Ah, era vero che ha detto sì Eh sì Ma il giornale ha detto che vinciamo lo scudetto No interisti Però vedo che la Juventus è sempre in testa È logico che è in testa Eh, quando? È logico Ma lo punto! Chi è lo punto? Passi che pareggio c'è una partita Oh, uno ha vinto! Già te ne ha aiutato, hai capito? Forza Inter Sempre? No No